salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi un volo davvero particolare con dj fpv o meglio delle riprese davvero particolari con il dj fpv perché come vi avevo detto qualche video fa avevo fatto vedere il dj fpv con la lista go 2 posizionata dietro al drone e in quel video avevo detto appunto che avrei fatto poi un'altra prova dove avrei messo un braccetto per posizionare la lista dietro lontana dal drone per riprendere appunto il drone mentre vola e ragazzi oggi è arrivato quel giorno ho montato la lista qua dietro al dj fpv ho usato questo braccetto che in alluminio che poi di vista perché è all'interno poi del pacchetto che gli sta da per installare la sua action cam sopra un casco sulla bicicletta in quel pacchetto diciamo di installazione per bici e casco troviamo appunto questo braccetto in alluminio molto leggero perché essendo poi tutto mente scavato è praticamente molto molto leggero quindi quello che andremo a vedere è una cosa di questo tipo il drone che vola così e la lista dietro che lo inquadra e ragazzi vi dico subito che il risultato è spettacolare perché non ho resistito e oggi ho guardato le immagini nel telefonino ed è una cosa strepitosa sembra quasi un fotomontaggio ma invece è proprio quello che si vede dj fpv che vola qua siamo sul lago di civate quindi una location carina niente di strato sferico ma come test secondo me ci rende davvero l'idea di che spettacolo è fare riprese di questo tipo con la telecamera che inquadra il drone che vola anche perché ci dà proprio una soggettiva incredibile e poi si vedono anche i led del drone che lampeggiano perché comunque il gfpv è pieno di led che lampeggiano è uno spettacolo quindi ragazzi se il video dovesse piacervi lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante nuove tante prime spoiler era arrivato appunto anche lo spoiler di questa prova che ho fatto iscrivetevi sempre se vi va al mio canale telecom offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial ma adesso ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo qua sul lago di civate con dj fpv e istago 2 decolliamo iscrivetevi al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.